Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La riunione dell'Aula di Palazzo Cesaroni è stata caratterizzata da una forte polemica sulle nomine della sanità regionale. Il Consiglio è stato chiuso in anticipo per mancanza di numero legale. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. L'ultima seduta dell'Assemblea Legislativa è stata chiusa alle 17 dalla Presidente Donatella Porzi per mancanza di numero legale. Presenti in Aula solo gli otto consiglieri dei gruppi di opposizione. È stata questa la conclusione di una giornata difficile caratterizzata dalle sedute della Giunta per le nomine dei direttori della sanità. La seduta d'Aula, che si sarebbe dovuta aprire alle 10, è stata posticipata alle 15. Dopo aver affrontato il question time alla ripresa dei lavori, il capogruppo del PD Gianfranco Chiacchieroni ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della richiesta di istituzione della Commissione Speciale per le Riforme Statutarie, avanzata da tutti i presidenti dei gruppi di Palazzo Cesaroni. Il centrodestra e liste civiche, invece, ha chiesto di discutere subito la mozione sui criteri per le nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali. A questo punto, dopo una sospensione, la Presidente Porzi ha constatato la mancanza del numero legale e ha sciolto la seduta. Per Raffaele Nevi, Forza Italia si è assistito ad uno spettacolo indecente ed a un consiglio surreale ridotto a terra di nessuno. Per Claudio Ricci, portavoce centrodestra e civiche, siamo di fronte ad una lotta di potere all'interno di una maggioranza profondamente divisa che non ha interesse a fare scelte per gestire in modo qualitativo la sanità. Per i consiglieri regionali della Lega Nord, Emanuele Fiorini e Valerio Mancini, c'è un atteggiamento vergognoso della Giunta, il PD si spacca sui direttori sanitari e la Presidente Marini non è più in grado di governare. Per Marco Squarta, Fratelli d'Italia, la maggioranza impegnata a spartirsi posti di potere dimentica i veri problemi degli Umbri. Andrea Liberati, Movimento 5 Stelle, parla di una giunta già verso la crisi a causa di uno smottamento politico in corso, visto che dopo tanti segni premonitori, ma inascoltati, esplodono all'improvviso problemi tenuti nascosti per decenni. I consiglieri regionali del PD, Donatella Porzi, Luca Barberini, Andrea Smacchi, Marco Vinicio Guasticchi e De Rosbrega, prendono atto della forzatura che si sta consumando in merito alle nomine dei direttori della sanità regionale e ritengono che la direzione in cui si sta andando non è certo improntata al rinnovamento e dalla discontinuità auspicate e richieste dai nostri elettori. In una conferenza stampa il consigliere regionale Luca Barberini del PD ha illustrato le motivazioni che lo hanno portato alle dimissioni da assessore regionale alla sanità, coesione sociale e welfare. Vediamo. Amareggiato sul piano politico e su quello personale, era necessario un migliore lavoro di squadra per giungire a scelte condivise. Andava valorizzato molto di più il cambiamento e l'innovazione, era questa la sfida. Sulle nomine dei direttori generali si poteva attendere fino al 29 febbraio, ma non è stato fatto. Oggi la maggioranza deve prendere atto che un assessore si è dimesso e che esiste un gruppo di consiglieri che appoggia le sue idee e le sue proposte. Non si può essere renziani e innovatori a Roma e conservatori nostalgici in Umbria. Sono alcuni importanti passaggi, sottolineati a Palazzo Cesaroni, in una conferenza stampa del consigliere regionale Luca Barberini del PD, dove ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a rassegnare le dimissioni d'assessore regionale con deleghe alla sanità, coesione sociale e welfare. Per Barberini, all'interno della giunta regionale, è venuto meno quel rapporto fiduciario che è alla base di ogni agire politico. In questi sette mesi, ha detto, è stata importante la scelta di non rinchiudermi nell'assessorato, ma uscire per capire le necessità e le esigenze del territorio. Nella sanità e nel sociale, ha detto, siamo stati una regione protagonista e all'avanguardia, che ha saputo dare importanti risorse. Oggi, però, dobbiamo capire che non siamo più i primi della classe, perché i bisogni sono cambiati e perché altre regioni hanno camminato più veloci di noi. Dimissioni che nascono da una constatazione del lavoro che ho fatto in questi mesi, ma anche sulla necessità di dare risposte e coinvolgimenti diversi. Sono rimasto deluso sul piano politico, amareggiato, deluso sul piano politico e sul piano personale. Ho messo a tema alcuni ragionamenti, che è un ragionamento uno di coinvolgimento, del lavoro di squadra, di una necessità di decidere le cose insieme. Quindi è un ragionamento di metodo. E l'altro tema è quello del merito. Abbiamo detto che è necessario nella nostra regione valorizzare molto di più il cambiamento e l'innovazione. Questa è la sfida che abbiamo di fronte a noi. Si poteva attendere, perché non c'era nulla di male, non c'era alcuna scadenza impellente, si poteva attendere fino al 29 febbraio. Avevamo tutto il tempo per utilizzare metodo e la questione di metodo e la questione di merito. Non l'abbiamo saputa, siamo caduti in un burrone. Sta la capacità politica a provare a dare risposte diverse, a cercare di trovare la soluzione per venirne fuori. Nel corso della conferenza stampa, Barberini ha annunciato la presentazione a breve di una proposta di legge che mira la realizzazione di un'unica ASLE, un'unica azienda ospedaliera, con due articolazioni ben strutturate a Perugia e a Terni. Presentata in terza commissione la proposta di legge sulla valorizzazione sociale delle attrezzature sanitarie dismesse. Paolo Giovagnoni. Il consigliere regionale Silvano Rometti, gruppo socialisti e riformisti, ha illustrato ai membri della terza commissione la proposta di legge che mira a inserire nel testo unico in materia di sanità e servizi sociali la promozione dell'utilizzo, per fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale. Le attrezzature messe a disposizione dovranno essere funzionanti e liberi da vincoli. L'accessione deve avvenire a titolo gratuito. Potranno presentare richiesta per l'accessione o l'utilizzo dei beni dismessi gli enti pubblici e organizzazioni e gli enti non governativi, gli enti ecclesiastici e le organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali. Con i voti della maggioranza e l'assenzione dei commissari di opposizione, la seconda commissione ha predisposto un documento di risoluzione relativo alla realizzazione del progetto pilota per lo sfruttamento dell'energia geotermica nella piana dell'Alfina. I dettagli nel servizio. Con cinque voti favorevoli dei commissari di maggioranza, Brega, Chiacchieroni, Leonelli e Smacchi del Partito Democratico, Rometti dei socialisti e riformisti, e tre astensioni di quelli dell'opposizione, De Vincenzi, di Ricci presidente, Fiorini, Lega Nord, Liberati, Movimento 5 Stelle, la seconda commissione, presieduta da Eros Brega, ha approvato una proposta di risoluzione relativa alla realizzazione del progetto pilota per lo sfruttamento dell'energia geotermica nella piana dell'Alfina. Nel dispositivo del documento di indirizzo si invita in primo luogo la giunta regionale a verificare ulteriormente, tra l'altro, la possibilità di giungere a una soluzione condivisa tra le istituzioni locali, cittadini e società proponente, subordinando ogni decisione finale al rispetto del principio di precauzione rispetto alla salute della popolazione e della tutela ambientale. La risoluzione, per il quale documento, relatore in aula Sarai da Presidente Brega, prevede di impegnare l'esecutivo regionale a tenere in debita considerazione un'articolata serie di questioni, tra le quali la totale contrarietà espressa con atti ufficiali da tutti gli enti locali della zona, oltre che dai cittadini e dai numerosi comitati, che si sono costituiti per avversare il progetto. Prevedere una specifica regolamentazione della materia in occasione dell'approvazione della strategia energetico-ambientale regionale, nei limiti degli spazi consentiti dalle competenze regionali, al fine di evitare il ripetersi di una simile e difficile vicenda. L'auspicio è che gli atti di competenza della Giunta regionale avvengano nel rispetto della normativa vigente e dell'interesse prevalente dei comuni del territorio e delle comunità coinvolte. I consiglieri regionali Giacomo Leonelli del Partito Democratico e Silvano Rometti dei socialisti e riformisti hanno presentato in terza commissione la proposta di legge in materia di diritti e tutela degli animali. Paolo Giovagnoni Definire la complessità della vita degli animali presenti sul territorio regionale andando a incidere anche sulla salute pubblica, sul benessere del territorio e i suoi elementi di civiltà. Questo è uno degli obiettivi della proposta di legge dei consiglieri Leonelli, del Partito Democratico e Rometti, socialisti, dal titolo Norme in materia di diritti e tutela degli animali. Presentando l'iniziativa legislativa in terza commissione i firmatari hanno spiegato che si tratta di una norma che nasce dall'interlocuzione con le decine e decine di associazioni che si occupano di animali, non solo cani e gatti, ma anche non da affezione. Il progetto di legge prevede tra l'altro l'istituzione presso la Presidenza della Giunta dell'Ufficio regionale per i diritti e la tutela degli animali in collaborazione con gli assessorati alla sanità, all'ambiente e alle politiche agricole e l'istituzione di un garante e di una commissione per i diritti e la tutela degli animali. Il tema della crisi dell'informazione regionale è stato al centro di una serie di iniziative del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria. Marco Paganini La crisi e le difficoltà crescenti che incontra il sistema regionale dell'informazione sono state argomento di tre diverse iniziative che si sono svolte negli ultimi giorni a Palazzo Cesaroni su iniziativa del Comitato regionale delle comunicazioni. La Presidente del Corecom, Maria Gabriella Mecucci, ha convocato una conferenza stampa durante la quale ha delineato alcuni dei numeri che dimostrano la debolezza del sistema dei media locali Umbri, evidenziando lo stato di crisi già dichiarato da alcune televisioni private, a cui si associa il callo costante delle copie vendute dai quotidiani locali, che nell'ultimo anno ha toccato il meno 10%. Mecucci è stata poi sentita dalla prima commissione consigliare che sta svolgendo una serie di audizioni scaturite dalla chiusura del giornale dell'Umbria. Parlando ai commissari, la Presidente del Corecom ha rimarcato che questa situazione difficile richiede un provvedimento regionale rapido ed efficace che possa entrare in funzione il prima possibile che renda utilizzabili in maniera semplice i fondi europei. Sempre a Palazzo Cesaroni si è infine svolto il convegno del Corecom dal titolo Il sistema televisivo e l'emittenza privata, crisi e prospettive. Il convegno di oggi è stato molto interessante. Abbiamo raccolto una serie di dati che fotografano bene la situazione dell'informazione locale e delle emittenti televisive. L'orientamento che è venuto fuori è chiarissimo, è quello di andare verso un coordinamento degli interventi e un coordinamento fra loro anche delle emittenti, questo per far fronte nel modo migliore alla crisi. Come si possono coordinare, perché questo interessa in modo particolare le istituzioni, i diversi interventi nei confronti delle televisioni private, locali? Si possono coordinare o facendo una legge regionale che naturalmente legiferi sia sull'emittenza televisiva sia anche su altri aspetti del mondo dell'informazione oppure si possono coordinare facendo una cabina di regia o un qualsiasi altro provvedimento. Questo naturalmente non spetta al core come al deciderlo né ad un convegno. Ad un convegno spetta solo indicare la strada e dare qualche suggerimento. Il Consiglio regionale poi provvederà a votare il provvedimento che gli sembra più opportuno. E anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. Buona settimana a tutti.